chi salvate chi salvate tra me e iumi io sono quello più intelligente io mi porteremo la morte non è vero apriamo un dibattito un dibattito salvatemi ok va bene prima devo salutare delle persone devo salutare chi dice ferezetti per il dragone ferezetta e nuovo ferezetta secondo voi scrivetemelo qua sotto nei commenti ferezetta chi dovrebbe vivere tra me e iumi ovviamente scrivete il aggrappati entrambi così male no no devi salvare esatto si corrompe il mondo un attimo di calma io invece non mi metterò in pericolo per mezzo dei miei video va bene ti prego è vero tu ci mettevi sempre in pericolo lo sa ma non lo vado ma se lo facevo per content lei ci darà i dolci e lui non ci darà più fastidio ok 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 allora chi è più giovane tra voi due io ma che cosa c'entra questo solo di un mese vuol dire che ho un mese in più di vita rispetto a te vuol dire che ne vale più la pena salvare lei ma come te stai ragionando mica trovato terminale ma morirai prima sulla media di una statistica mondiale cosa ci fai qui non capisco oh mio dio che cosa quella agli occhi bianchi quella ragazzi oh mio dio scappate seguitemi seguitemi cosa ma come fai ad essere così tanto veloce scappate dentro casa mia dentro casa mia venite venite aspetta lo so ma a quanto pare io io rimango con voi e rivivo insieme a voi questa sfida di yumi di sopra di sopra di sopra si sopra ryan semplicemente adesso yumi è un cattivo oh mio dio non è possibile questa cosa dobbiamo fare qualcosa deve pensare un modo per sconfiggere ma come possiamo sconfiggere gli umi e dove cavolo sei sbrigati oh mio dio aspettate gli umi cosa è che gli piace agli umi e i dolci a parte me magari ragazzi aspettate effettivamente io piaccio obbligo 4 ore troppo veloce quella tizia cosa è stato il gioco blocco vera andiamo a prendere il gioco blocco dovrebbero essere a casa mia a casa di ryan perfetto e allora dobbiamo ritornare indietro di nuovo aiuto che cavolo c'era dietro di nuovo dietro di nuovo qui sopra qui sopra ecco lì aspetta io mi lanciamo dalla finestra ok vedete qua sopra ok tesoro ci dove siete e io mi vieni all'entrata oh mio dio sei una pazza prendi questi gioco blocco grazie perfetto adesso stai meglio ora stai meglio ti stai calmando gioco blocco per me calmati eh guarda che le donne isteriche non cuccano esatto e che se ne frega ma questo non mi fermerà che male cacchio oh mio dio ragazzi mi ha tolto quasi tutti i cuori ok parimi tutti magari devo andare io in sacrificio ragazzi come ha detto giusto elox ci sarà una vai 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 dove siete venite fuori sta arrivando venite fuori oh mio dio vai 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 vado vado dov'è andata è scopparsa dove stanno ne facendo forzo sbrigati così se ne va fuori dai mangiami electromagnetic Quindi devo mangiare lui Non di nuovo Non di nuovo Cosate ragazzi Vi ho trattato male ma non volevo Aspettate questa cosa funziona ragazzi Come con tutte le varie forme di bicata Che abbiamo sconfitto attraverso questo metodo Potete farlo anche con noi Ovvero se riuscite a sconfiggere me Potremmo ritornare tutto quanto alla normalità E noi riusciremo a tirarci fuori entrambi da questo buco Vivi, sani e salvi Quindi adesso Dovete buttare giù Yumi Sì Oddio ragazzi Oh mio dio Elox Deve andare più semplice Mi ha sparato Oh no Sto volando Di Ho anche due gli occhi bianchi ragazzi Sto scendendo Ehi ragazzi Ci hanno fatto un giro Come state? Mi ha mai male Guarda lo stai fermo Mi dispiace ma queste sono le regole Le regole Non posso essere cambiato Mi pare che chi scrive il gioco Aspettate Vai via vai via Vai via Attacca 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 Cacchio state scappando dalle stesse Beh Mi dispiace Ragazzi Ragazzi Non lo facciamo Vedi qua Zoe Tu non mi scappi Zoe scappa Io mi seguo E Zoe È morta Corri Yumi E Zoe È morta Dove è finito Krukko? È lì sopra Krukko scappa Prima che ti uccida Vieni qua Vieni qua Krukko Ti piacerebbe salire di sopra? Sali sopra il cielo Krukko Vai Krukko Nel cielo Nel cielo Sì No Krukko Ti ammazzo E un altro è morto Lo so Lo so Tenta Yumi Conoscendo delle Sei rallentata Yumi Sei rallentata Yumi Oh Yumi No Ryan No dobbiamo fare una cosa Io lo so cosa può funzionare Vieni qui Vieni qui Sbri Sono pronta Sarà pronta Sei pronta a morire Questa ti farà calmare Tesoruccio Mua Tenta Tesoruccio C'è il tuo frango Tesoruccio perché? Non ha funzionato Ryan Io mi scappa Mi ho fatto solo che incavalare ancora di più No Scorri Io mi scappa No non è vero Non sono qui Se avete un'illusione Ryan Vuoi fare una bella fine Colossale In realtà no Potremmo un attimo discutere Puoi provare A volare No non ci tengo No no Scorri Possiamo parlarne No Scorri Calmati Abbiamo passato tanti bei momenti insieme Tipo quella volta che sei stato rifiutato da una ragazza E quell'altra volta invece che hai tirato un pugno al Barisa E quell'altra volta invece che hai Cacchio si è salvato nell'acqua porca miseria La cavolo sei finito Ryan Corri 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 Ryan Cosa mi hai fatto? Sbri Ma tutto bene? Mi hai fatto Mi hai fatto tenere presente dei ricordi Da me mai ricordati Dei ricordi Sbri Ryan Sbri è troppo tardi Ryan Sbri Ho ritornato in me È troppo tardi Tranquillo ti salvo io No No Per salvare tutti i miei amici devo morire Necessariamente Addio mondo crudele Almeno sono uscito dalla maledizione dei buchi Ci siamo riusciti Sbri 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 Oh mio Dio Ce l'abbiamo fatta Oh mio Dio Siete riusciti a scolpirci tutti Yumi Perché mi sono sacrificato E Ryan Perché mi ha fatto ricordare tutti i bei momenti che ho passato con lui Eh già Oh cavolo Non fallo mai più Ok Ok Tutto bene quello che finisce bene Ma la prima domanda è Come ci siete finiti in quei buchi? Io che ne so Sono logato e Ero lì C'è sponato là Qualcuno controlla questo mondo allora? Oh cacchio Non Comunque Come Iscrive